La resilienza in ingegneria è la capacità che ha un materiale di deformarsi senza rompersi e successivamente di ritornare nella sua forma originale. Proviamo a pensare alle canne di bambù. Anche quando c'è il vento forte sono capace di flettersi per poi ritornare nella loro forma originale. Diverso sarà per un ramo rigido che rischierà di rompersi se il vento è troppo forte per lui. Simile è il concetto in psicologia dove la resilienza e la capacità che una persona di resistere ad eventi traumatici senza rompersi proprio come il bambù e successivamente ritornare nella forma iniziale di benessere psicofisico riorganizzando in modo positivo la propria vita. La resilienza è una capacità che si costruisce nel corso della nostra vita e ci aiuta a stare bene anche se le cose a volte non vanno come vorremmo.